c'è una domanda di Giulia Blasi qual è e quale sarà il vostro modello di business il modello di business sicuramente quello base sarà la vendita degli ebooks io non penso che sia possibile fare dei modelli di business alla spotify con subscription o l'affitto è molto complicato perché il modello economico intorno agli ebooks è molto complicato e non si presta secondo me né all'affitto né alla sottoscrizione mensile all'apponamento mensile stiamo considerando alcune varianti e altre possibilità interessanti, non abbiamo niente di di preciso al momento per cui all'inizio la cosa più semplice per noi sarà rendere i libri che vengono discursi nel social network acquistabili direttamente da Nobi nel modo più aperto possibile quindi la nostra chiave sarà sempre l'apertura più ampia ampio dare all'utente poi nell'utilizzo dell'ebook che ha acquistato cosa che Kindle non dà e Apple non dà nemmeno perché in realtà i libri acquistati da Amazon e da Apple sono vincolati al mondo Amazon al mondo Kindle mi potrei dire sì però Amazon mette a disposizione applicazioni per leggere l'ebook su tutti i dispositivi sicuramente però è una specie io la chiamo una prigione dorata nel senso che tu hai una sensazione di libertà nel senso che pensi di aver comprato l'ebook ma in realtà se volessi portare il tuo ebook a un lettore della Sony o di Kobo o di un altro non lo puoi fare quindi è uno stato di semi libertà noi invece daremmo la libertà totale perché siamo molto open come cultura e e lo dimostreremo anche con le nostre azioni proseguo con l'altra domanda di Giulia Blasi che dice mi piacerebbe anche sapere se hanno pensato a mettersi in prima linea con iniziative per la promozione della lettura sfruttando la loro enorme community di lettori ma ci piacerebbe il problema è come strutturarlo perché essendo un piccolo team noi siamo un piccolo gruppo qua a Londra e un gruppo ancora più piccolo è difficile fare cose di questo tipo noi quello che possiamo fare che ci interessa è dare apertura sulla piattaforma alle persone che hanno interesse a fare queste cose per dargli una voce diciamo in un certo senso Anobi stesso di oggi dà la possibilità agli utenti di creare gruppi di discussione o gruppi di lettura e infatti ci sono alcuni eventi che in Italia ci sono dei gruppi di Anobi che incontrano utilizzando Anobi come la piattaforma di incontro e poi si trovano faccia a faccia in qualche posto a discutere di libri noi siamo molto pro lettura pro negozi pro tutto perché in realtà come sai la nuova Anobi è finanziata dai tre grossi editori quindi l'interesse dell'editore non è come l'interesse del negoziante l'editore ha interesse che la gente legga di più che compri i più libri possibili in più posti possibili questo è un po' il nostro mandato noi in realtà non ci interessa tanto che la gente compra i libri compri i libri da noi ci interessa che compri i libri poi possibilmente in più posti possibili perché se tutti comprano i libri in un posto solo si crea un monopolio che non è salutare per nessuno perché se qua la situazione in Inghilterra è abbastanza drammatica perché il dominio di Amazon sui libri ha come conseguenza da un lato sembra positivo perché il costo dei libri è basso e quindi il consumatore si sente di ricevere un beneficio dall'altro questo sta facendo chiudere tutti i negozi di libri quindi tra un po' non ci saranno più i negozi di libri e quindi uno dirà sì che bello posso comprare da Amazon perché costa poco però non avrà più la possibilità di entrare in un negozio di libri a sfogliare un libro a parlare con il libraio poi va bene anche così probabilmente però bisogna ricordarsi che per ogni cosa che si ottiene da una parte se ne perde una dall'altra certo c'è un equilibrio eh sì un'altra domanda che viene da Eleonora Gandini mi piacerebbe sapere i numeri italiani ma i numeri non è che ne parliamo tanto sinceramente perché sai siamo una società privata e non è che dobbiamo dire i nostri numeri perché non siamo quotati in borsa sono molto buoni i numeri italiani sono sorprendentemente alti ci siamo sempre chiesti anche con Greg il motivo per cui Anobi si è diventato così popolare in Italia e i numeri sono che se guardi su Alexa che ti dà l'indice di popolare di internet vedi che Anobi è nei top mille siti italiani in generale sicuramente uno dei siti più trafficati per ciò che ha vedere con i libri il motivo secondo noi per cui è diventato molto di successo in Italia sono due principalmente uno perché gli italiani mediamente leggono meno ma chi legge legge molto di più della media rispetto all'estero cioè in Inghilterra la gente legge di più perché anche la persona che legge poco legge comunque due o tre libri all'anno in Italia ci sono uno zoccolo duro di lettori che leggono tantissimo e poi altri che non leggono niente quindi la media è più bassa ma chi legge legge molto di più di quelli che leggono tanto negli altri paesi quindi c'è un audience captive di lettori accaniti come te questo è il punto uno punto due che Anobi molto presto nella sua vita ha internazionalizzato la piattaforma consentendo l'uso di tutte le lingue e quindi la piattaforma è stata abbracciata utilizzata dagli utenti italiani perché aveva la versione in italiano quello ha aiutato molto secondo me questi sono i due motivi principali per cui ho avuto molto in Italia allora proseguo con un'altra domanda di Mirko Pallera alla quale però mi sembra che tu abbia già risposto in realtà che era hanno degli strumenti di marketing per i libri e se sì quali nel senso cosa offrono agli editori autori per promuovere i libri ma in realtà no cioè siccome non siamo un negozio classico noi non ci interessa spingere un libro perché ce ne sono talmente tanti che non è che abbia molto senso cioè i libri in un certo modo il nostro modello di business è che i libri li spingono gli utenti attraverso le raccomandazioni se il libro è a valore cioè se il libro è un bel libro il nostro obiettivo è che un lettore scopra una chicca e lo dica a tutti gli amici cioè quello è il modello di business di Anobi se poi siamo noi a vendere il libro e l'utente decide di comprare da noi bene noi siamo contenti perché ci guadagniamo qualcosa ma cioè il sito proprio anche la nuova versione che stiamo costruendo non ha proprio la struttura per poter promuovere un libro si autopromuove da solo perché comunque poi il libro più diffuso lo troverai più spesso sugli scatenti e quindi per definizione lo vedi più volte cioè quindi è una cosa che tutta succede in automatico chiarissimo allora proseguo con una domanda di Mafia e The Budges chiedigli se pensano di sviluppare qualcosa per il digital lending e lo share di citazioni il digital lending ni nel senso che vedremo cioè il modello di digital lending che secondo noi funziona è quello base alla Amazon dove tu puoi prestare un libro lo fa anche Barnes & Noble in America se hai un ebook lo puoi prestare una volta per un mese una persona sola una cosa può fare tecnicamente è un po' complicata per cui non è una cosa che riusciremo a fare immediatamente però è una cosa che ci piacerebbe fare lo sharing dei commenti quello sia assolutamente sempre ci sono alcune restrizioni che ti impongono gli editori perché hanno paura che uno a forza di sharing un pezzo di qui un pezzo di là alla fine può share tutto il libro su Facebook che non è quello che gli editori vogliono però sicuramente per noi la parte di sharing è molto importante e soprattutto poter fare lo sharing mirato agli amici cosa che né Kindle nessun altro può fare allora l'ultima domanda dei lettori questa arriva da Simone Corami chiedi se vogliono integrare con forme di narrazione diverse come film e videogioco a lei Noir meriterebbe cioè integrare i libri con altri media sì sì con altre forme di narrazione ah è difficile sai noi siamo abbastanza puristi nel senso che io ho sempre pensato che se vuoi fare un bene un lavoro devi fare quello e basta se sei un bravo falegname non puoi fare il falegname il piastrellista perché alla fine li fai male tutti e due quindi il nostro obiettivo è di essere migliori a socializzare i libri quindi le altre forme diventano molto di fringe si dice in inglese che non mi viene la parola in italiano molto collaterali è un po' collaterali quindi non core non al core della proposition quindi penso che sarà difficile allora ti faccio un altro paio di domande che io personalmente ci tenevo a farti intanto non so se hai visto la notizia di oggi a proposito delle indagini che stanno svolgendo a Bruxelles a proposito di Apple perché è stata accusata di insomma l'antitrust sta indagando perché è stata accusata di aver fatto accordi non concordi alle alle regolamentazioni proprio per mettere fuori gioco Amazon che stava tenendo i prezzi bassi sì l'ho vista cosa vuoi sapere voglio sapere che cosa ne pensi uno e due come Anobi si posiziona rispetto a questi due giganti ecco allora io penso che il modello di pricing introdotto da Apple che so abbastanza tanto che non nasce da una da una collusione tra Apple e gli editori ma nasce semplicemente da come Apple fa il business nel senso che Apple ha portato al libro lo stesso modello delle apps perché è l'unico modello che ha non perché l'ha fatto apposta perché non sanno fare altro cioè Apple ha detto io sono bravo a fare ho fatto un sacco di soldi vendendo le apps e prendendo il 30% di ogni app venduta se faccio e apro un app store per i libri faccio lo stesso perché perché Apple non ha nessuna capacità di fare il pricing né delle apps né dei libri né di nient'altro perché Apple vende i dispositivi e basta quindi loro sono andati dagli editori e dovete vendere i libri da noi noi ve li vendiamo ma dovete fare il prezzo voi perché noi non siamo capaci e noi vi prendiamo il 30% non c'è stata per quel che so io nessuna collusione o piano schema per fare questo e mi sembra che sia una cosa assolutamente naturale in linea con il modo di fare il business di Apple non ci trovo niente di sorprendente primo secondo trovo che sia una cosa alla fine della fiera visto come stanno andando le cose in America e in Inghilterra forse positiva perché perché Amazon che ha la libertà di far pagare i libri quello che vuole ha una capacità di spesa non paragonabile a nessun altro venditore è in grado di vendere i libri a prezzi a margine zero se non addirittura a margine negativo allora sicuramente se io vado da un consumatore e gli dico questo libro lo vuoi pagare 10 euro o 5 mi dice 5 perché come dici vuoi che ti dia un bacio o una sberla cioè è ovvia la scelta è ovvia il problema è che il consumatore non sa e non pensa a quali siano le dinamiche per cui ti offro il bacio invece della sberla e il problema è che Amazon in un mondo dove non c'è controllo sui prezzi o diciamo un prezzo base di resistenza Amazon ha sempre utilizzato questa metodologia per conquistare market share l'ha fatto talmente bene che in Inghilterra oggi il mercato degli e-books Amazon si stima che abbia intorno al 95% del mercato wow eh quindi cosa fa questo modello introdotto da Apple in realtà rintrugge la competitività la concorrenza che poi è assurdo perché in realtà lo accusano dell'opposto gli dicono ah tu siccome blocchi i prezzi è contrario alla concorrenza in realtà rintroduce la concorrenza perché rimette in gioco tutti quei concorrenti che non possono vendere i libri a margine negativo che sono tra l'altro tutti i business il cui core business sono la vendita dei libri perché se il mio core business è vendere i libri non posso farlo a margine negativo perché se no devo mandare a casa tutti i dipendenti se sono un supermercato poi i supermercati vengono i libri o se sono Amazon che ti vende anche le scarpe da lavatrice allora dici io faccio margine zero negativo sui libri perché tanto faccio margine positiva sulla lavatrice ok se io sono la Feltrinelli o qualsiasi venditore di libri in Inghilterra non ti puoi permettere di vendere i libri sotto un certo margine quindi secondo me quello che ha introdotto Apple è fondamentale perché se gli viene bocciato cioè se questo modello viene rimosso dalla comunità europea crea un mercato anticoncorrenziale perché rende il mercato apre il mercato completamente Amazon e nessuno sarà in grado di fargli concorrenza nessuno e quindi sarà molto bello per noi lettori perché avremo i libri molto economici ma tra cinque anni non ci saranno più negozi di libri ci sarà solo Amazon che a quel punto inizierà a spingere probabilmente i libri su cui hanno i margini migliori o i libri degli autori promossi da loro e quindi si perderà veramente la varietà la molteplicità del mercato quindi quello che sembra di primo acchitto regola anticoncorrenziale secondo me in realtà facilita molto la concorrenza quindi mi auguro che la comunità europea arrivi alla stessa conclusione perché se no saranno dolori per tutti quanti chiarissimo per quanto riguarda invece il posizionamento di Anobi rispetto a questi ai due Amazon e Apple il posizionamento è che noi rispetto a loro siamo un social network cosa che loro non sono e siamo interamente focalizzati sui libri quindi il nostro obiettivo è di creare una piattaforma che diventi un po' come ti dicevo prima il caffè letterario incontro di chi ama la lettura cosa che Amazon non è chi ama la lettura non va su Amazon la gente va su Amazon a comprarsi il libro idem su Apple quindi noi cerchiamo il nostro obiettivo è di diventare una piattaforma di incontro di conversazione di scoperta soprattutto di nuovi libri la scoperta per noi è chiave perché il problema irrisolto nel mondo dei libri è proprio la scoperta che c'è probabilmente per ognuno di noi c'è più di un libro potrebbe cambiare la vita ma non sappiamo qual è e dov'è chiarissimo quindi un'ultima domanda sulle tempistiche proprio quindi quando arriverà la nuova versione di Anobi in Inghilterra e in Italia Allora in Inghilterra è già in beta aperta e ci stiamo già lavorando con un po' di gente qua speriamo di in Italia purtroppo e qui è uno svantaggio per l'audience italiana purtroppo che è causa del in Italia in Italia è un posto dove l'apriamo proprio perché abbiamo l'utenza più grossa e non vogliamo fare un dispiacere a tutti gli utenti italiani quindi vogliamo essere strassicuri che quello che stiamo facendo non 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 crei un effetto negativo sull'utenza italiana io penso realisticamente come tempistica se tutto va bene il il secondo quarto del 2012 quindi maggio giugno va benissimo Matteo io ti ringrazio tantissimo di essere stato qui con noi oggi e per il tuo tempo figurati Maria è un piacere grazie a tutti grazie a tutti